Buongiorno, eccoci, oggi è domenica, domenica 22 novembre, sono a Usbate Velate presso il magazzino di La Damp e siamo qui ad attendere che apri questo magazzino della Damp che di solito la domenica apre alle 13, siamo con il mio nuovo collega Franco, siamo arrivati intorno alle 10 e mezza, siamo partiggiati, ho dormito 30, non avevo tanto sonno perché stamotte ho dormito un bel po' quindi non so come si sta, e ora siamo qua ad attendere, vedo che comunque iniziano ad entrare dei camion, vi faccio vedere, ecco stanno entrando dei camion, lì ci sono tutti gli autisti che stanno registrando, io sono comodamente in cabina ad attendere che Franco registri, ci registri per poi entrare, siamo, ho l'ottava macchina quindi ci da aspettare un bel po', dopodiché andremo ad un altro magazzino, altri 4 magazzini per terminare gli scarichi dell'andata, sappiamo già dove andare a caricare per il ritorno, tornerò a casa martedì, è un giro che non avevo mai fatto e questa è la prima volta che lo faccio, sono in un altro Scania, questo è un Scania un po' moderno R500, molto bello, il mio letto, questo è il letto di Franco, e quindi è dire ragazzi, è una domenica di attesa perché il prossimo carico poi sarà previsto per le 15, poi l'altro carico per le 17, quindi una giornata così di attesa a questi, a questi magazzini, va bene? Questo è il primo video che faccio direttamente su YouTube, spero che venga bene, ancora domenica a tutti!